buongiorno a tutti sono sandro pili sindaco di terralba anche terralba quest'anno è la prima volta che partecipiamo a monumenti aperti quindi stiamo lavorando tanto per voi venite in tanti non fateci fare brutta figura vi aspettiamo in tantissimi il 26 e 27 maggio per vedere le bellezze di terralba e marce di ovviamente e gustare i nostri prodotti vi aspettiamo in tantissimi mi raccomando